Io alle nuove istituzioni non ho altro da fare che fargli gli auguri e che rispettino fino in fondo il loro ruolo e che anche il nuovo governo possa essere a servizio del Paese e del bene comune. Noi non abbiamo altro da dire. Teme un'asse centrodestra, attrazione leghista e 5 stelle? Io non temo nulla, perché noi abbiamo parlato con estrema chiarezza, abbiamo parlato di bene comune, abbiamo detto quali punti ci stanno a cuore, che sono il bene della gente, di tutta la gente, quindi non abbiamo nulla da temere da nessuno, ma ci mettiamo in collaborazione con tutti coloro a cui veramente interessano questi temi di fondo.